Si celebreranno domani, venerdì 1 marzo alle 11, in cattedrale i funerali del 19enne nisseno Luigi Fonti, che ha perso la vita in un incidente stradale in via Giuseppe Alessi, ex Due Fontane. Il giovane, che era alla guida della sua Renault Clio, stava scortando la fidanzata, che a sua volta era a bordo della propria auto, per riaccompagnarla a casa. Ma mentre la ragazza è arrivata a casa, la corsa di Luigi si è tragicamente conclusa contro un muro. È stata proprio la fidanzata ad allertare i soccorsi, perché una volta arrivata presso la sua abitazione, si accorta che il fidanzato non era ancora arrivato, così facendosi accompagnare dalla madre, è tornata indietro e ha fatto la tragica scoperta. L'auto di Luigi si è ridotta a un mucchio di lamiera cartocciate, mentre il suo povero corpo giaceva fuori dall'abitacolo. Inutili i soccorsi e la corsa verso l'ospedale. Affranti i genitori, i fratelli, la fidanzata, i parenti e gli amici, per la tragica scomparsa di un brillante ragazzo nisseno. La redazione di TCS si unisce al cordoglio della famiglia.